Pazza idea di far l'amore con lui Pensando che sto impazzendo Buongiorno amici dello zoccolo duro Oggi mettetevi comodi Mettetevi comodi che oggi impazzisco Ve lo dico, impazzisco oggi, impazzisco Allora, partiamo subito dalla Roma Amici romani, tifosi della Roma, Claudietto, tutti gli altri Mi dispiace, mi dispiace per voi Vi ho sempre simpatizzato Ma quest'anno dovete arrivare ultimi Ultimi, ultimi dovete arrivare Non dico fallire perché non ve lo meritate voi tifosi Ma dovete arrivare ultimi Ma come si fa? Cioè tu vai dalla tua diretta concorrente Perché l'Inter è la tua diretta concorrente Te, non ti dico al Milan Lascia stare il Milan Ma per voi, è la vostra diretta concorrente Gli dai il giocatore che gli serve Nainggolan Che tra l'altro è il giocatore più forte Cittrocampista più forte del campionato Dopo Milinkovic Savic Tu glielo dai all'Inter Glielo regali Glielo dai all'Inter 24 milioni Poi ti prendi Santon Cioè il super portasfiga Che gli poteva rovinare le partite Che a qualche punto se lo toglieva Te lo vai a prendere te Glielo vai a togliere Quindi gli togli un problema Gli dai il giocatore che gli serve per sistemare la rosa E in più E in più Gli sistemi anche il bilancio Gli sistemi anche il bilancio Perché tu praticamente gli dai Gli prendi Zagnolo e Santon Entro il 30 giugno Così fanno le plusvalenze Gli sopravvaluti Gli fai fare le plusvalenze Che gli servono per sistemare il bilancio E ti metti a bilancio Dal primo luglio Ma ragazzi ma Che cazzo Cosa siamo Ma che cos'è La confraternità dell'amicizia Ma ragazzi Ma di che cosa stiamo parlando Ma mi spieghi Per quale motivo Monci sta facendo Quest'operazione Ma per quale motivo Cioè ma Nangolani Non lo potevi vendere In Inghilterra In Germania O dove cavolo Volevi Ma anche tenerlo in giardino Ma che operazione è Ma che operazione è Ma ragazzi Ma io Sono allibito Cioè Non so a Roma Cosa state facendo Ma svegliatevi Svegliatevi pure a Roma Cosa state facendo a Roma Cioè non c'è nessuno che protesta Magari sento anche dire No ma Nangolani C'ha un brutto carattere C'ha 30 Tutte ste cagate qua Oh svegliatevi eh Svegliatevi che non arrivate Nelle prime quattro L'anno prossimo Ma dovete arrivare ultimi Neanche Neanche i UEFA Ultimi dovete arrivare Imbecilli totali oh Mamma mia Poi tra l'altro Vado avanti Perché non è finita Non è finita Sento dire Giustamente L'Inter dice Cazzo Gli ho dato Sant'Om Ma è andato Nangolani Mo chiamo il Milan Gli do Candreva E mi prendo Suso Ah beh Ah beh ma allora Siamo nel paese dei balocchi qua Allora partiamo dal presupposto Che a me Suso fa cagare Lo sapete Per me lo dobbiamo vendere E con i cardi Ritigarebbe dopo un minuto Perché gioca da solo Non gli darebbe neanche un palo nei cardi Ma detto questo All'Inter non si dà niente Niente Allora vetti che tu sei a casa No Immaginate io sono Mirabelli Sono a casa C'ho qua La soppressata Il peperoncino di Soberatto Sono qua Sono a casa Bussano E l'Inter Mirabelli Guarda Ho finito il sale Me lo presti per favore No Manco il sale Gli devi dare Niente Niente gli devi dare all'Inter Niente Niente gli devi dare Suso Niente gli devi dare Niente Meno male che c'è Gattuso Che se solo Mirabelli Prova a dire Gli do Suso all'Inter Lo appende in piazzale Loreto Lo appende Gennaro Non scherzare Mi fido solo di te Gennaro In piazzale Loreto Li devi appendere Questi altri deficienti La Juve ha comprato Cansello Ufficiale Ve lo dico già Cansello La Juve Tutte le altre chiacchiere Tanto a dire Cosa gliene frega Ha dato via Santogna Andato nel Golan Cosa gliene frega di Cansello Giustamente Giustamente Suso Ve lo scordate Allora Suso Ha una clausola Per andare Solo all'estero Quindi non in Italia Solo il Milan Può dire sì Per Suso Tanto se lo prendiamo Brozovic Altre cagate Perché Brozovic rimane all'Inter E Spalletti non lo dà via Io lo prenderei Brozovic Ma non gli do Suso Non gli do niente Ma non è che non gli do Suso Perché è forte Perché a me non piace Non gli do Suso Perché all'Inter non gli do niente 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 gli do Né alla Juve Né all'Inter Niente gli devi dare Niente Neanche a morire Mamma mia ragazzi Sono impazzito oggi Sono impazzito Tra l'altro Poi ho sentito Il Milan Se va via Suso Prende Caleion Caleion Scambio Probabile scambio Col Chelsea Se va Sarri Scambio alla pari Alla pari Pipita Morata Ma che scambio alla pari è? Che uno ha dieci anni in meno Che scambio alla pari è? Ma ragazzi Ma va che io sto impazzito Poi ho sentito Mandragora 20 milioni Al Monaco Ma che Ma siete pazzi? Cioè ma com'è possibile che La Juve Gli regala Mandragora 20 milioni Prendono Cansello Di qua di là L'Inter Da Santogli Prende la Ingolanta Vado a vedere il Milan Vado a vedere il Milan Donna Rum Ha fatto gli esami Ha portato gli esami Non sa il cazzo cosa ha portato Ma che cazzo me ne frega a me Di cosa ha portato gli esami Donna Rum Che questi stanno facendo la squadra E noi stiamo ancora Aspettando la sentenza UEFA Oh ma svegliatevi Svegliatevi eh Svegliatevi Che finite veramente In piazzale Loreto eh Ve lo dico eh Ultimo avviso Ve lo dico Volevo poi Fatemi calmare un attimo Allora Per la diretta live Che ieri non l'abbiamo fatta Per la diretta live Oggi se riusciamo La facciamo ai due e mezza Non ve lo assicuro Non ve lo assicuro Perché sono troppo nervoso Non ve lo assicuro Che facciamo la diretta Verso le due e mezza Attivate sta campanella Se siete su Facebook Andate su Youtube Attivate sta campanella Così se ce la facciamo Vi ascoltate il video E stasera Sarò da A Calcio di Cane Podcast Canale Youtube Vi lascio il link Nella descrizione A Calcio di Cane un amico Vi consiglio di venire Perché impazzisco stasera Impazzisco Non vi perdete La live di stasera Che è impazzisco Arriverò tardi Verso 8 e mezza 9 Ma entro nella live Gli spacco il canale A Fede Fede ti avviso Impazzisco stasera Impazzisco A Fede ti avviso A Fede ti avviso A Fede ti avviso